Due pappe, due bagnetti, due capricci, due regali, due giochi. Non sempre due gusti sono meglio di uno. Doppio lavoro, ma anche tante divertenti avventure per la mamma di due gemelli. Gemelli, il reality che entra nelle case di chi sta vivendo l'emozionante esperienza di crescere due gemelli. Gemelli, lunedì alle 21.30 e mercoledì alle 16.30.